nuovo appuntamento con cibo ed intorni ben ritrovati settimana dopo settimana soprattutto in questo periodo di festività natalizie noi vi facciamo conoscere delle prelibatezze oppure facciamo il focus su qualcosa di davvero squisito da mangiare oggi vogliamo parlarvi invece del nettare di vino sì lui proprio del vino che è un vero e proprio alimento e per raccontarvi di vini buoni di quelli che vengono dall'irpinia dalla verde irpinia guardate un po chi vi presento lei è milena pepe che è la titolare dell'azienda tenuta cavalier pepe una famiglia quella pepe davvero antica raccontiamo un po la storia della famiglia e anche della cantina buongiorno allora la famiglia è di luogo sano è un paese a tre chilometri da taurasi mio mio papà a chi appartiene l'azienda sono dieci fratelli e sorelle e l'unico che se ne andò da piccolo da giovane dopo la scuola a 19 anni in belgio e il suo sogno era sempre di ritornare in italia ma ha costruito la famiglia sua in belgio perché ecco questo accento quindi così bello così affascinante voilà mia mamma in belgio e sono rimasti in belgio mio papà poi ha costruito in italia un'azienda viticola con i fratelli ristrutturando i vigneti di famiglie di famiglia impianti già esistenti poi ha piantato altri ettari intorno alla dio cg di taurasi dunque oggi abbiamo 60 ettari di vigneti sulle colline della dio cg taurasi caspita ma suo padre e voi tutti portate avanti un discorso ancora un po diverso cioè non solo vino da bere ma vino da intendere come concetto di ospitalità di conoscenza di un territorio sì l'irpina è bellissima si sta benissimo la natura il calmo che non apprezzo ma anche l'enogastronomia dunque l'azienda è fatta con la cantina io curo la la vigna i vini della famiglia della produzione ma abbiamo anche un ristorante dove la potete assaggiare la cucina tipica irpine grazie mio cugino che gestisce dopo faremo un salto anche al ristorante ma adesso invece venite con noi perché andiamo in bottaia milena siamo veramente in un posto magico questa è la bottaia sì questo è il luogo dove i nostri vini affinano l'alianico ha bisogno di tempo per affinare e equilibrarsi dunque abbiamo le botte botte grande o le barrique di rovere per l'affinamento e poi abbiamo anche altri vasi vinari il cemento e le anfore e le anfore ora il nostro ottimo Stefano traditi ve le inquadra ma sembra veramente di vedere dei reperti dell'antica roma è una particolarità assoluta sicuramente è importante che l'alianico affina e l'anfore è un ottimo contenutore senza la tossatura come per le botte il vino riposa e c'è una micro ossigenazione che avviene dunque l'ossigeno entra lentamente nel vino e fissa le molecole del vino tra di loro il vino veramente riposa e si apre il quadro aromatico del vino tantissimo sia nelle anfore e sia un ottimo altro contenitore e il cemento beh certamente però queste anfore sono di grande suggestione ma parliamo adesso un po dei vini perché a giudicare da quanto è grande questa cantina insomma avete parecchie qualità di vino sì sì abbiamo quasi 20 vini tra doc e doc i g le doc i g sono il fiano di avelino il greco di tuffo il taurasi i nostri vini più importanti sicuramente opera mia il nostro taurasi e la riserva taurasi riserva la loggia del cavaliere questo sicuramente sono i vini più identitari quelli che io cerco di fare il meglio possibile però hanno bisogno di tempo non escono subito sul mercato siamo con la loggia del cavaliere 2012 e opera mia 2013 insomma questi sono vini sicuramente per una tavola impegnativa ma c'è da dire che per la tavola di natale voi avete sicuramente tanti altri vini no magari per la vigilia dei vini bianchi qual è quello che si sentirebbe di consigliare allora io comincerei con una bella coda di volpe bianco di bellone sabina con tanti antipasti formaggi giovani freschi mozzarella burrata e tartina invece dopo passerei a un fiano dopo si deve vedere che tipo di pasta avete ma brancato sarebbe un ottimo però questo per dire che quindi la tenuta cavaliere pepe ha un'ampia gamma di possibilità di scelta sia proprio di gusto di aroma di sapore che insomma anche di tasca perché no insomma perché i vini riserva sicuramente sono dei vini di nicchia un'ultima battuta veloce sui vitigni perché so che voi ne avete di antichissimi sì allora noi in azienda abbiamo delle vite che hanno oltre 60 anni però nella zona di taurasi a pochi chilometri ci sono dei vigneti che hanno 100 200 anni e questo è il nostro patrimonio ampelografico e cerchiamo le famiglie che sono a taurasi e dintorni cercano di curarle e mantenere la tradizione adesso allora noi ci spostiamo al ristorante perché abbiamo parlato di tavola imbandita e vogliamo anche degustare qualcosa eccoci arrivati all'interno del ristorante la collina dove è possibile degustare delle prelibatezze irpine e non solo irpine accompagnate da questi ottimi vini della tenuta cavalier pepe con nicola che è il maître al quale devo fare i miei complimenti perché questo tavolo è veramente uno spettacolo voglio fare una veloce carrellata su che cosa ci avete preparato certamente un assortimento di salumi tipi cirpini con caciocavallo poi abbiamo delle zuppe di stagione scarola con fagioli e guanciale una zuppa di ceci e castagne broccoli con patate e qua abbiamo uno stinco di maialino al forno con patate uno stracotto di manzo all'aglianico con polenta fritta tutti i prodotti davvero buoni della terra e poi soprattutto con le castagne questa zona montella le famose castagne montella e poi qui uno spettacolare grazie lei lo sa che io sono colosa trionfo di dolci milena torno da te perché naturalmente tu hai preparato due calici di rosso su queste pietanze che cosa vogliamo abbinare ho abbinato opera mia il nostro taurasi di ocg 2013 che è un'annata assolutamente eccellente ma a proposito di eccellenze qui invece accanto ai dolci un'altra delle vostre eccellenze una vostra caratteristica tipicità sì abbiamo il sherry mary che è un dopo pasto a base di alienico e amarena ed è un prodotto esclusivo della tenuta cavalier pepe adesso a noi non resta che fare gli auguri ai nostri ascoltatori noi speriamo che la vostra tavola di natale sia imbandita come questa anche più ricca di questa ma soprattutto speriamo che voi possiate bere bene vero auguri 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 a tutti allora buon natale arrivederci da aeroporto internazionale di napoli grazie a tutti grazie a tutti